Brasiello si è insediato da un anno e mezzo ma ancora non fa nulla per il settore sociale. Anzi ha peggiorato la situazione caricando le famiglie esernine di un carico insopportabile di tasse imposte. Se continua così da Isernia andranno via centinaia di famiglie. Il duro atto di accusa viene da Giovanni Muccio, del guerriero Sannita, sostenitore alleato elettorale di Brasiello. Ma quando a Campobasso funziona una mensa per i poveri, mentre a Isernia no, è tempo di alzare la voce. Nel momento in cui un'amministrazione comunale aumenta al massimo la tasse, la taria e l'addizionale IFPEF, bisogna anche rendersi conto che ci sono centinaia di famiglie esernine che vivono nella più totale disperazione. Vivono in un appartamento dove la luce, il gas, per morosità involontaria, gli è stata staccata. Queste persone dovrebbero pagare questi contributi, queste imposte comunali. E allora perché non vediamo quante sono queste famiglie veramente nella disperazione e trovare una soluzione per queste famiglie? Un'altra cosa, io lo ripeto, io voglio essere di input, di stimolo a questa amministrazione, perché io sono, come tutti sapete, del centro-sinistra, ma per questo non è che io non parli. E se c'è da polemizzare, da attaccare anche il centro-sinistra, io lo faccio con tutto il cuore. Si è parlato sempre della mensa dei bisognosi, si è rimbita la bocca su questo problema. A distanza di un anno e mezzo da questa amministrazione, cosa si è fatto di questa mensa dei bisognosi? Nulla, solo chiacchiere, chiacchiere e chiacchiere. Qui c'è gente che ha bisogno di mettere a tavola un piatto. A Campobasso, la Caritas e l'amministrazione comunale hanno creato questa mensa per i bisognosi. Oggi, se voi andate a vedere, cari sernini, sono decine e decine di cittadini che vanno lì a mangiare. Questo significa dare una risposta all'emergenza che oggi vive il cittadino. Ci si riempie tanto della tossicodipendenza, di andare incontro a questi giovani perché sono abbandonati. Cosa abbiamo fatto? Cosa ha fatto questa amministrazione? Eppure degli impegni con il guerriero Sanita se li sono presi. Ma quando questi impegni li prendono con il guerriero Sanita e non vengono mantenuti, io li denuncio pubblicamente, politicamente, non mi interessa se sono della mia stessa coalizione.